Registro di missione 113, operazione Vulcan, Pacifico, 1944. Sorvolavo l'oceano Pacifico con Trident. Ero sulle tracce di una presunta operazione segreta nazista. Saldate! Via! Via! Ora! Gli stronzi ti aspettavano e alla prima occasione tentarono di abbatterci. Mollai Trident sul posto e cercai di salvarmi il culo fuggendo con l'aereo. Sapeva cosa fare. Trident fece il culo a tutti e completò la missione. E poco dopo venne il mio soccorso. Oh, cazzo. Per quanto tentassero di nasconderli, avevo un certo fiuto per i segreti dei nazisti. Ma guarda... Ma una cosa la sapevo. Il mondo non era pronto per quello che trovai. Ma guarda... Ma guarda...